questa farà questo con la scapola l'altra spinge quindi farà questo bellissima questa figura si vede che il pallone bolla perché si ferma non me la cancella cancella mi serve proprio quella gamba che tira verso il petto quindi se mi fate un male con il ginocchio indietro no occhio verso di me la codina d'arco indietro e verso l'alto scendo e questa è la mia figura vedete che le spalle sono esattamente all'altezza del bacino torsioni oggi ok che è questo bellissimo ok la gamba inferiore tra gli spinta e il tricepito non è questo anche questo braccio prima dell'interno una questione che non sogniamo e poi andrà a cercare il paro dietro di sangue questo ho preso una sensazione non voglio a crollare sulle spalle per questo esatto vuoi avere le visibilità limitate mi scivolo ma poi l'interno è una presa per supporto siccome voi siete tutti più più giovani e più mobili e più snodati di me sarete bravissimi io mi sono fatta un sacco di libidi no vedete no giuro vedrete che sarete bravissimi voi vedremo poi vedremo la riuscita di questa classe che tra l'altro vi ho messo in grande sul televisore quindi non scappate allora ragazzi benvenuti a questa lezione di trips and tips ok oggi ci abbiamo il palo in spin si buon riposo ci vediamo domani con qualcuno ciao ciao ciao